Il problema del paese non sono i migranti ma le mafie. Lo sostiene con forza Don Luigi Ciotti davanti alle circa 300 persone che ieri sera erano presenti a Lerice, alla festa del quotidiano Avvenire, dove il fondatore di Libere e del gruppo Ebele è stato ospite. Il problema del nostro paese sono le mafie, la corruzione. Non dimentichiamo le cose belle, i passi in avanti che sono stati fatti, l'impegno dei magistrati, delle forze dell'ordine, dei luoghi investigativi, però le mafie sono vive, le mafie sono ancora forti, mafie e corruzione vanno veramente fortemente a braccetto. Un problema è quello dell'immigrazione, che non può essere sempre vissuto come delle emergenze, ma è strutturale, crescerà sempre di più il numero delle persone che sulla faccia di questa terra stanno cercando una terra promessa perché fuggono dalla povertà, dall'eserto che avanza, dalla fame, dalla sete, dai conflitti, dalle guerre. Quindi è una dimensione globale, ci vogliono delle risposte globali, l'Italia deve lottare perché l'Europa si assuma di più questa responsabilità, ma non possiamo neppure continuare a semplificare, a respingere, non possiamo giocare sulla pelle di tanta povera gente, non dimentichiamoci che anche noi abbiamo fatto le colonie in Africa e adesso rispingiamo le persone che abbiamo magari usato e sfruttato in passato. Intervistato dai giornalisti di Avvenire, Lucia Bellaspiga e Paolo Lambruschi, tanti i temi affrontati durante la serata, dall'infanzia di Donciotti alla nascita di Libera, fino all'impegno al fianco delle mamme che si trovano in territori mafiosi. Noi stiamo lottando perché ci sia un sistema legislativo che gli permette di avere un cambiamento onagrafico, che possono iscrivere i loro bambini a scuola senza che vengano rintracciati, si stanno facendo dei passi in avanti anche in questo senso. Dopo Donciotti continuano gli appuntamenti con la festa di Avvenire, questa sera alla Rotonda Vassallo di Lerici, la consegna del premio Anarduccia Chiara Ammirante, fondatrice dell'associazione Nuovi Orizzonti.